buongiorno benvenuti alla resina stampa di oggi 22 ottobre vi ricordo che oggi lunedì come tutti lunedì c'è quarta repubblica un sacco di gente mi invita il lunedì mi dice viene a questo con questa opening viene a questa conferenza stampa e io insomma dico il lunedì non lo sapete ma c'è quarta repubblica su rete 4 in prima serata ovviamente quelli che vedono la zuppa questa cosa la sanno però in molti ancora pensano che rete 4 non c'è sia informazione finanziaria e magari vanno a vedersela sulla 7 io dico guardatela a quarta repubblica guardatela su rete 4 questa sera alle 21 e 30 oggi il corriere della sera con quella fascia rossa al lato con il rosso sopra nelle due mancette con il rosso in basso di vodafone in sembra una domination come si suol dire di un sito internet sapete quei siti internet che voi aprite diventano tutti i gialli per fasto e tutti i blu per timo tutti i rossi per 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 vodafone che sono le compagnie telefoniche beh insomma io non ci vedo nulla di male nella pubblicità per carità ci paga la pubblicità non su facebook ma in tutti gli altri posti quindi la pubblicità non è un male la cosa incredibile che mi immagino i fighetti del corriere della sera che si devono trovare incorniciati dalla pubblicità della vodafone sul 4.5 g quanto se la divertano andiamo sulle cose serie le cose serie sono che ieri si è tenuta la grande kermess del movimento 5 stelle qua al circo massimo devo dire che i numeri io abito a due passi dal circo massimo non sono quelli dell'ultime volte cioè in realtà un po meno gente che ci sta perché come lo stesso grillo ieri ha fatto una battuta me la sono ascoltata tutta quanta in cui diceva sono arrivato qua ho visto un sacco di macchine blu cavolo però stavolta mi hanno spiegato stai buono perché sono quelli dei nostri è evidente perché chi governa ovviamente ha a che fare con le difficoltà di governare con i compromessi del governo si può urlare di meno e tant'è che l'urlo di ieri che sarebbe stato passato inosservato sul fatto che il quirinale ha troppi poteri idea lanciata lì da un comico cialtrone come è grillo è diventata subito un caso io non penso che sia un caso chi se ne frega di quello che dice grillo tra l'altro detto riguardo a salvini principale alleato di governo di del suo amichetto di maio ha detto peccato che quel giorno la mamma di salvini non abbia preso la pillola anticoncezionale insomma augurare l'aborto alla madre del tuo leader co leader vice premier di partito non è una delle cose più chic del mondo però la gente si scandalizza perché si tocca al quirinale tanto che oggi la stampa titola e tutti riprendono che conte si sarebbe subito affrettato a chiamare mattarella per dirgli scusami è un po esagerato grillo quando non esagera grillo quando non esagera quando viene eletto conte grazie ai voti di grillo o quando sta al circo massimo dice le cose che magari al circo massimo tutti hanno applaudito molto più divertente il titolo secondo me grillo bravo lisa è un buffone è un buffone e io non rido non rido io non rido quando fa quelle battute cialtrone su sulla gente va bene ma vista sulle balle è una cosa grillo una cosa il suo movimento purtroppo oggi sono due cose diverse il titolo migliore dicevo è quello del giornale che titola grillo ride l'italia piange va bene grillo ride l'italia piange forse il titolo migliore che oggi si possa fare sulla manifestazione di ieri perché chiunque abbia visto la manifestazione di ieri aspettate vedere qua se abbiamo collegamento si chiunque abbia visto la manifestazione di ieri ha avuto questa sensazione di una manifestazione allegra con un grillo che si permette di dire ma che di che stia parlando c'è una manovra incasinata ai mercati che comunque avete preso e 136 sono non c'è 300 il che come vedremo non è soltanto colpa di questo governo insomma proprio quest'area di grillo che sta lì e che pensa alla blockchain mi sembra ridicola capezzone intervista uno dei grillini della prima ora anzi non della prima ora perché paragone se le ha fatte tutte berlusconi lega e ora movimento 5 stelle paragone dice fico stia attento a non fare il leader senza partito sulla verità riguardo alla meno manovra l'italia secondo le indiscrizioni tutti i giornali oggi a mezzogiorno rimanderà la sua lettera all'unione europea dirà che non cambierà il 2,4 di deficit strutturale e che andrà per la sua strada guardate il pezzo più interessante di oggi sulla manovra è quello di roberto perotti su repubblica che voi sapete odia questo governo repubblica ma siccome perotti è una persona seria ed è un economista serio oggi però ci ricorda una cosa che forse ci siamo dimenticati due cose che ci siamo dimenticati una a favore di questo governo una contro questo governo e sono due cose oggettive la prima quando il commissario moscovici che stasera vedrete in collegamento a quarta repubblica e gli chiedono subito ma tu sei il nemico degli italiani bene quando i commissari europei dicono che il disavanzo è stato il disavanzo strutturale è stato e per l'unica volta è così di si è discostato così tanto dalle previsioni va bene è però dice no caro non è vero perché il disavanzo strutturale doveva essere del 0,8 mentre la commissione prevedeva una riduzione dello 0,6 quindi balla un punto e mezzo percentuale ma cosa è successo nel 2016 dice perotti quando non c'era grillo quando non c'era salvini al governo nel 2016 il disavanzo strutturale italiano è stato ha deviato rispetto a quello che prevedeva la commissione di un punto e tre praticamente quanto oggi quindi ci hanno dato una maggiore flessibilità nel 2016 grazie alla quale un po siamo cresciuti e adesso non ce la ridanno più quindi ci siamo mangiati il grasso negli anni passati io dico perché questa cosa non la urlano ad alta voce questi cretini del movimento 5 stelle della lega invece di urlare contro quel moscovici non fanno capire come il passato governo nel 2016 si sia mangiato la flessibilità che oggi invece tutti quanti rigorosi vogliono essere quando nel 2016 tutti zitti e muti adesso c'è Renzi che farà Leopoldo state facendo le cose lo stessa cosa la fece identica lui identica per gli stessi valori chiaro e nicola quest'antina lasciato i calzini a casa mia che faccio che li faccio lavare e stirare non la capisco questa battuta e l'altra cosa che invece dice molto interessante perotti è guardate che in realtà ci sarà un problema sulla sui tempo sui titoli del debito pubblico perché ogni anno l'italia deve vendere 380 miliardi di euro di debito pubblico titoli btp botte quelle robe là 380 miliardi un sacco di gente salvini ha spiegato molto bene tutto questo va bene allora se grazie dici che salvini l'ha spiegato molto bene scusami grazie tu hai sentito salvini che l'ha spiegato molto bene la seconda cosa che forse salvini non ha spiegato è che 380 miliardi di euro che spiega oggi perotti i 380 miliardi di euro che ogni anno e quest'anno compreso dobbiamo vendere mentre la banca centrale europea l'anno scorso ne comprò 160 facendo un grande vantaggio al passato governo quest'anno dicendo 2018 nel 2019 ne comprerà 21 miliardi e questa roba qua non è che la fanno perché è arrivato il governo giallo verde ci potrebbe essere arrivato anche babbo natale al governo il motivo di vero è che finirà il quantitative easing cioè l'acquisto di titoli di stato da parte della banca centrale europea va bene qua togliamo questo wifi che funziona di cavolo l'altra questione molto divertente oggi che vi sottolineo è dovreste vedervi l'intervista oggi realizzata a steve bannon che è l'ideologo sovranista mi sembra che sia fubini che si sarà messo i guanti la mascherina perché ha detto che era una schifezza che gli faceva schifo steve bannon oggi però se lo intervista btp 10 anni a 3 56 per cento dice effettivamente qualcuno di voi ed ha ben ragione quando un anno fa erano al 2 o all'1 e mezzo per cento di essere generosi ma questo dipende comunque dal quantità di sistema steve bannon fa un'intervista lunghissima a fubini una cosa mi interessa dice i conservatori in america e noi abbiamo capiti per primi con trump e gli altri l'importanza delle radio e secondo me è una di quelle cose fondamentali su cui l'anno scorso mi sono esercitato anche io in radio 105 e la lungimiranza diciamo del pensiero conservatore moderato ha fatto sì che senza neanche una telefonata così io sia stato fatto fuori dalle radio a me cosa che io quest'anno non avrei il tempo per fare però quello che voglio dire l'egemonia culturale delle radio anche quelle di mediaset è di una parte politica molto semplice come quelle di dei benedetti come quelle diciamo cosiddette libere cioè in realtà mentre in america la riscossa dei conservatori della destra è arrivata attraverso le radio in italia la le radio sono ancora tutte quante in mano al pensiero sinistro come pensiero sinistro devo dire in mano una certa informazione rai perché quello che ieri ha detto fazio e io sono di quelli che dice non si deve impedire a fazio di intervistare il sindaco di riace però possiamo prenderci la briga di poterlo commentare almeno cioè non è l'esame sta se si dice che ieri in televisione sentire il sindaco di riace che dice che le leggi italiane sulle immigrazioni sono come quelle naziste come quelle naziste bisogna non è detto che una legge si debba rispettare solo perché è legge beh insomma io non paragonerei le leggi sull'immigrazione italiana quelle razziste e naziste e in più sottolineerei a fazio e al suo amico renzi che lo ha nominato e gli ha fatto fare questo contratto milionario in televisione che quelle leggi sono state fatte anche da minniti che lo stesso sindaco di riace aveva definito cattiva persona comunque sia questo è diciamo il clima per fortuna che in questo clima c'è la rete la rete che però ogni tanto esagera anche dall'altra parte con le minchiate mostruose poi dopo certo se ieri vediamo la leopolda diciamo ragazzi ma noi vogliamo veramente ritornare lì oggi bracalini fa un pezzo stupendo sul giornale che vi consiglio ed è il seguente ieri c'è stato un bim bum bam gestito da un nuovo conduttore che è renzi che invece di fare il presentatore invece di fare il premio si sta riscoprendo come presentatore televisivo complice il suo agente presta come se un premier debba avere un agente presta e l'agente gli ha portato anche bonolis insomma ieri c'era un bonolis e un bim bum bam alla leopolda per cui io dico quando penso male di questo governo quando dico che sono dei cialtroni quando sento quell'imbecille delinquente di rendi di grillo che mi fa orrore al circo massimo quando vedo grillo al circo massimo dico dio beh quando vedo quello penso al bim bum bam ieri della leopolda in cui sono emerse tre cose uno che attraverso una specie di colpo di scena scritturata da presto verrà candidata alle europee per il per il pd rula gebreal rula gebreal candidata allora dico oddio santo rula gebreal quando mi rendo conto che bonolis è il metra pensè della sinistra va benissimo io figurate l'odoro bonolis ma per vedere darwin per vedere i nostri non forse come metra pensè della sinistra e quando vedo che la boschi si dice preoccupata dei risparmi in banca degli italiani ecco insomma io non sono uno di quelli che vuol fare il pierino con questi qua però insomma veramente ve l'andate a cercare quando dite che foa è una fake news vivente beh caro caro renzi e la tua leopolda la stessa fake news per fortuna non l'abbiamo avuta più che fake real news quando campo dall'orto ha fatto fuori tutta la rai e ha ucciso programmi e ha fatto andare in fallimento 200 milioni che gli ha regalato di canon in più dai non diciamo minchiate ecco quando vedi la leopolda di ieri pensi bene a che cosa è ci siamo persi e forse non lo rimpiangiamo per niente magneti marelli andiamo sulle cose serie verrà venduta ai giapponesi in realtà magneti marelli una delle storiche aziende italiane della galassia fiat verrà venduta per 6,5 miliardi quindi un botto la fiat vende sempre i suoi pezzetti e la vecchia strategia di marchionne per 6,2 miliardi in realtà i giapponesi sono a loro volta partecipati da un fondo americano di quelli speculativi si sarebbe detto un tempo ma in realtà oggi di lungo termine come kkr beh l'altra cosa scusatemi che oggi sul fatto ci si esercita è la mezza il il come si dice lo stivale a mezza coscia della 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 boschi capite capite poi dopo perché non perché vedi qua il circo massimo diceva beh questi stanno il fatto parla del dello stivale a mezza coscia la giornalista di repubblica che dice lo stivale mezza coscia viene attaccato dall'avia che gli dice come ti permetti di dire lo stivale a mezza coscia vabbè ragazzi allora sapete che c'è di nuovo pensate al nel momento di sconforto quando i vostri risparmi e risparmi stanno andando in fumo pensate a due cose pensate a perotti che dice che in realtà è colpa del quantitative easing e che verrà comunque a mancare e pensate alla leopolda vi metterete di buon umore questa sera dovete pensare a una sola unica cosa unica cosa positiva è che il lavoro rimarrà in italia della vendita di magneti marelli ma le vendite non vogliono dire necessariamente che l'ero vada via molte marche italiane sono stati venduti all'estero il lavoro è rimasto in italia penso a cui della moda l'unica cosa a cui dovete pensare alle 21 e 30 questa sera brava sanzoise noi pensiamo solo alla zuppa ma pensare che questa sera quarta repubblica tutti i segreti di questa manovra tutti i segreti della lite tra salvini e di maio che c'è stata c'è stata con tanti ospiti straordinari questa sera a rete 4 ciao